e bello a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi andremo a droppare il baule mega cangiante mi sembra che si chiama così allora cominciamo con una semplice ah no il mio amico sta giocando io mi faccio una partita veloce ok allora se questa la vinciamo baule d'oro e se vinciamo anche la seconda baule super mega cangiante ragazzi sono veramente veramente carico allora ok arcioletti in difesa oh porca miseria che no ragazzi mi tenso anche la strega perché ha non gliela butta e giurtre ah si ok hanno delle carte veramente veramente forti la mia strega viene proprio distrutta in una maniera imbarazzante ok direi di congelare perfetto ok buttiamo giù quel bombarolo al 12 che è veramente bestia ok sinistra un bella attacca se volete buttare anche una zappa anche che bombarolo è una bella hit però la da guardate i tre arcieri ragazzi buttiamo giù la torre praticamente senza parole ok non so cosa fare ok non è buttare strega e stile perché quando si butta giù la torre notando che noi abbiamo fatto la torre molto non so se 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 un amico vuole andare a fare tre colonne oppure alla seconda torre oppure difenderli perché io direi di difenderli perché io direi di difenderlo a questo certo punto nooo hanno buttato anche loro la congelo ok quello glielo di difenderli ok quello glielo di sintetichiamo seconda torre tre alla grande ragazzi andiamo a farle tre corone quando non ci difendiamo tanto si sono resi praticamente tre corone per noi bellissime e dai tre corone ora teoricamente baule d'oro teoricamente giusto? si ok ragazzi qui usarei baule mega cangiante un'altra partita veloce e la dobbiamo vincere veramente ecco guarda dobbiamo vincere ai livelli 12 ma non ci posso credere ok vediamo cosa fanno chiusate non ho capito ok abbiamo perso chissà giusto difendiamo di dirlo ok e faranno di cosa a caso ragazzi vengono troppo ma non giocano fanno tutti un padre di chiamato cosa fanno no io ho preso una centrale io sono un hub però io vi ho vinto al gioco ragazzi vengono alle 12 il mio amico è scemo perchè non butta no i dati è molto bello stupido ok stupido speriamo di buttarle giù la torre e una seconda a questo punto ma grazie allora i'm sorry si usa pretty good ragazzi raga ma quanto cioè sono troppo contento ma cosa fanno voi io direi di andare sulla centrale no no praticamente generale tutto al 3 considerate che io ho solo il mago elettrico al 3 le altre ce le ho tutte a 2 o all'1 anche perchè ho scioppato poco ho scioppato solo più bambini che jambai poi vabbè altre cose tipo come che ne sa provocazioni vedete di questo ho scioppato il passo ragazzi baule super mega cangiante ragazzi attenzione attenzione baule super mega cangiante allora baule super mega cangiante baule super mega cangiante accetta accettiamo ok e dai ragazzi 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 per questo video è tutto è durato pochissimo però non mi interessa perchè ragazzi provate preparatevi al chest opening ok preparatevi al chest opening arrivederci lasciate like commentate condividete lasciate moltissimi like arrivederci